A volte mi sono chiesto come avrei aperto io un romanzo, di questa portata, di questa ampiezza, di questo spessore, al posto di Manzoni. La scelta di dove cominciare, il momento, insomma, quando si ha in mano tanto materiale, come introdurre il discorso. Entrare immediatamente nell'azione, pure preparare l'azione con un overture. Quanto sono importanti, per esempio, i luoghi dove l'azione si svolge e soprattutto come far capire, magari progressivamente, il momento storico in cui tutta l'azione si svolge. Un momento storico che è molto particolare, molto importante, perché trattasi di un romanzo storico. E inoltre, questo romanzo è molto piantato in quello che è il carattere dell'epoca. La dominazione spagnola dell'Italia del nord, la suddivisione dell'Italia in vari stati, staterelli. La guerra di dominazione, diciamo, che si svolge localmente, ma che è anche il riflesso di una guerra più importante, la contesa per il Ducato di Mantua, per la successione del Ducato di Mantua, Francia, Spagna. E poi la guerra dei trent'anni, 1618-1648, che si svolge poi nell'ambito, diciamo, più ampio dell'Europa. E poi l'importanza del mondo degli umili, diciamo così, dei poveri. Le ripercussioni di questi eventi molto più grandi, quella che è la vita degli umili. E poi l'importanza ancora dello spirito dell'epoca, cioè di quello spirito in cui Dio fa mondo. E questo è ancora importante, insomma, è un luogo, questo del romanzo, importante per capire quell'epoca in cui Dio faceva mondo, cosa che non è più ormai, insomma, ma dove tutto viene visto sotto la luce dell'importanza della presenza di Dio nel mondo. E come tutta la vita si struttura, insomma, tenendo conto di questo aspetto, diciamo, della religione che si concretizza poi nella vita di tutti i giorni. E quindi come cominciare, come cominciare direttamente nell'azione, oppure cominciare cercando di descrivere intanto il luogo e il tempo in cui questo si svolge. E la situazione, insomma, la mentalità, i rapporti di forza, insomma, quello che sono i rapporti tra come si viveva in quel momento. Manzoni sceglie di cominciare con un overture, diciamola così, con un overture dedicata ai luoghi, al paesaggio. E in questa sequenza, diciamo così, in questa lunga sequenza che lui dedica al paesaggio, secondo me anticipa quello che è un linguaggio visivo cinematografico. Ci vediamo una lunga sequenza filmica, potrebbe essere l'introduzione cinematografica. perché li vediamo questi luoghi, insomma, no? Cioè lui ce li descrive come se avessimo adesso magari un drone, no? E lo facessimo volare, no? Partendo prima da... Volando riprende i luoghi dove l'azione si svolge, dapprima molto dall'alto, quel ramo del lago di Como, tutto il lago, tutto l'insieme del paesaggio, che va verso mezzogiorno, quindi identifichiamo che luogo, le montagne che lo circondano, le valle, tutto il paesaggio molto dall'alto. E poi man mano questa sequenza si va a restringere sui particolari dei luoghi, sui monti, San Martino, Resegone. E poi si dilunga anche per descriversi come questi luoghi vengono visti, magari in Resegone già, come si può individuare da Milano, guardando verso nord, il lago, come si comporta, i roccioni, eccetera, eccetera. E poi man mano l'immagine si stringe, si stringe sempre più verso i viottoli, verso dove Don Abbondio, il primo personaggio che mette in scena, personaggio molto caratteristico, insomma, che identifichiamo immediatamente quando pensiamo ai Promessi Sposi, dove si trova questo personaggio, dove cammina in un piccolo sentiero, lo troviamo. E lo vediamo anche qua in maniera cinematografica, come ripreso dall'alto e poi da dietro. Lo vediamo nelle piccole azioni, cioè nel modo in cui cammina, in cui dà un calcio ai sassi, in cui tiene il breviario, intento nelle sue piccole meditazioni, finché sta tornando verso casa, pacifico, tranquillo, come vorrebbe essere, come ha coltruito la sua vita per essere. Poi lo vediamo come inquadrato da dietro in una soggettiva, quando a un certo punto, guardando avanti, alzando lo sguardo, intravede i due bravi messi lì, vicino a quel luogo dove la viottola si divide in due parti e nel luogo di questa suddivisione, in questa Y in cui si divide, c'è un tabernacolo. E questo tabernacolo quasi è il primo accenno a questo carattere dell'epoca, la religione, l'inferno, le fiamme dell'inferno, i dannati, insomma. Ma no, si intravede già un modo di percepire, di sentire la presenza di Dio come punizione, castigo, come premio a livello popolare, perché è un luogo, diciamo, di preghiera popolare, insomma, il tabernacolo. Ma lì, in quel luogo, si avverte anche un'altra presenza, in quel momento. Don Abbondio vi trova alla presenza dei bravi. Sempre cinematograficamente, assistiamo a una soggettiva, insomma. Don Abbondio, ci mettiamo negli occhi di Don Abbondio che guarda questi bravi. Dapprima li vede lontani, ma poi il suo sguardo scende nei particolari che li connotano in maniera molto chiara, no? Allora vediamo tutti i vari, il ciuffo, la reticella, la spada, insomma, la pistolaccia, la postura, tutto quello che non lascia dubbio a un certo punto nella sua mente. Si tratta di individui della specie dei bravi. E fin qui nessuna parola, solo immagini. Immagini ovviamente descritte, non viste, ma insomma la descrizione è come se fosse l'occhio di una cinepresa, una telecamera. E in questo momento non ha ancora una parola, fin qua. A questo punto Manzoni comincia già una digressione e si fa capire cosa sono questi bravi, ma per farci capire, si fa capire cosa è stato fatto, cosa si è cercato di fare in qualche modo, ma senza risultato, per debellare questa genia dei bravi, insomma, no? Che avevano questa connotazione di esseri piuttosto malvagi, insomma, di strumenti di un potere oppressivo, arrogante. E quindi ci descrive tutto quello che è stato fatto, e qui c'è un'ironia che viene fuori, no? Perché sempre più leggi contro i bravi sono state fatte e il fatto che venivano fatte leggi continuamente in tempi successivi sempre più punitive, sempre più repressive per debellare questa specie dei bravi, ci fa capire come queste leggi erano inutili, perché se fossero state utili non ci sarebbe stato bisogno di aumentare sempre di più le pene. Quindi ci mette alla presenza di un potere pomposo, arrogante, ma in realtà incapace, la legge nella sua inutilità, nella sua incapacità di punire chi dovrebbe. Ma ovviamente man mano che le leggi diventano più severe con la volontà di reprimere quello che dovrebbero, o quelli che dovrebbero reprimere, in realtà poi questa severità della legge si rivolge non tanto agli obiettivi, ma si rivolge poi ai poverazzi, insomma, che invece sono soggetti a essere perseguitati da leggi sempre più restrittive, insomma. Quindi la restrizione della libertà, invece che rivolgersi a queste figure, insomma, al servizio dei potenti, alla fine si traducono in una repressione nei confronti dei poverazzi. e qui l'intuizione oppure il riferimento al presente è molto chiaro, insomma, no? Siamo di fronte ancora a questo utilizzo della legge, lo percepiamo, insomma, no? Quindi questa scelta, insomma, dal punto di vista architettonico, dello sviluppo globale del romanzo, di cominciare a darci un'inquadratura prima di tutto del paesaggio, un'inquadratura, diremo adesso, cinematografica, ziva, del paesaggio, e poi di mettere in scena il primo personaggio, Don Abbondio, il quale si trova improvvisamente davanti invece a dei rappresentanti del potere arrogante, del potere che si esprime attraverso la sopraffazione, attraverso l'arbitrarietà delle proprie azioni, attraverso la sopraffazione dei più deboli, insomma. Quindi un potere che in realtà poi non viene contenuto attraverso le leggi, perché è la sua stessa espressione di quella realtà, di quella dominazione spagnola che si esercita su queste popolazioni oppresse in qualche modo. Abbiamo già avuto assenno all'inizio di come si comporta questo potere, no? Quando nella descrizione paesaggistica ci dice che nel borgo c'è una guarnigione spagnola dove alloggia il comandante, c'è una stabile guarnigione spagnola di soldati spagnoli che insegnava la modestia alle fanciulle, alle donne del paese, accarezzava di tempo in tempo le spalle di qualche marito e poi non mancava di diradar l'uve nei campi. In modo molto ironico per dire che questi bastonavano chi volevano e che si impossessavano di quello che volevano, di quello che era il patrimonio dei contadini, insomma, di quello che i contadini coltivavano. Quindi, insomma, della loro capacità di sopraffare la povera gente. Ecco, già piccola allusione di come funziona, di come funzionava il potere, in quel caso spagnolo. Ma qui ognuno di noi è capace anche di fare i propri confronti tra come andavano le cose allora e come in realtà certe costanti si mantengono ancora, magari in certi luoghi, insomma. Il modo di esercitarsi del potere in realtà non sia poi del tutto cambiato, nonostante che siano passati tre secoli da allora o qua. Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno. Più che una lettura, il Cerebre Incipit suggerisce un ascolto del testo, quasi si trattasse di una partitura musicale. L'ouverture di una di quelle grandi sinfonie romantiche contemporanee al lavoro di Manzoni. Leggo in questa interpretazione da parte di Cesare Angelini. Già le prime cinque parole compongono un novenario la cui forte accentuatura aiuta a stampare nella mente il principio di questo romanzo. E qui la pagina si apre con un immenso respiro paesaggistico a far da preludio alla vicenda che sta per iniziare. Si distendono le cose in panoramica a volo di uccello, lago, monti, golfi, fiumi, paesi, ognuna in rapporto esatto con l'altra, allargandosi, muovendosi. Un muoversi segnato dall'ondulante tema dell'acqua che si distende come un vasto variato sistema venoso in tutta la pagina. Acqua che sonnecchia, lambisce, scorre, sciaborda, tumultua. Nella sobrietà scarna dell'attacco senza concessione al lirismo c'è dunque l'enunziazione di un principio estetico fondamentale per Mazzoni. Il poeta tragico, passato dal racconto, non rinuncia alla poesia, ma senza cedere alla lirica. È una poesia che guarda all'esterno, non al proprio sentimentalismo, diciamo così. Il paesaggio così nobilmente delineato non ci appare come semplice sfondo naturale, ma come personaggio esso stesso in attesa del primo personaggio umano che sta per comparire. Abbiamo detto prima che si tratta di Don Abbondio. L'aderenza romantica alle cose, lo sforzo che su accoglierne la musicalità delle cose senza strapparle a se stesse. Ha prodotto questo piccolo miracolo d'arte. incipit famosissimo. Ma allora vediamolo anche un attimo più in dettaglio questo incipit, perché poi è anche questo un gioiello di costruzione di architettura e non per questo è anche difficile da renderlo nella lettura. quel ruamo del lago di Como che volge a mezzogiorno e qui andremo in cerca del verbo e invece no. Tra due catene non interrotte di monti verbo no tutto a seni e a golfi a seconda dello sporgere del rientrare di quelli eccolo il verbo ci sfugge quasi viene quasi ad un tratto a restringersi insomma quel ramo del lago di Como a un certo punto come noi vediamo lago vediamo che si restringe e a perder corso e figura di fiume adesso altra subordinata tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte altra e il ponte che vi congiunge le due rive par che renda ancora più sensibile all'occhio questa trasformazione e segni il punto in cui il lago cessa e l'adda ricominza altra subordinata per ripigliar poi nome di lago dove le rive allontanandosi di nuovo lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi nuovi golfi e nuovi seni punto periodo molto complesso no e in cui quasi il verbo che segna il punto di arrivo della frase si sfugge non sappiamo quasi no se è proprio quello il momento di arrivo della frase rileggiamo quel ramo del lago di como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti tutto a seni a golfi a secondo dello sforcere del rientrare di quelli viene quasi ad un tratto a restringersi e a prender corso e figura di fiume tra un promontorio a destra e un'ampia costiera dall'altra parte e il ponte che vi congiunge le due rive par che renda ancora più sensibile all'occhio questa trasformazione e segna il punto in cui il lago cessa e l'adda ricomincia per pigliar poi nome di lago dove le rive allontanandosi di nuovo lasciano l'acqua distendersi e rallentarsi in nuovi golfi e in nuovi seni periodo molto complesso da usare come incipit di un romanzo no però questa complessità è anche diciamo poesia e abbiamo visto come come poi questa poesia si concretizzi anche in una visione in una visione che ha le caratteristiche della costruzione cinematografica e poi continua in questa descrizione no approfondendoci la costiera formata dai depositi di te grossi torrenti scende appoggiata a due monti contigui l'uno detto di San Martino e qua se prendiamo la carta geografica prendiamo per esempio Google Earth e guardiamo dall'alto vediamo tutto è come proprio vediamo vediamo quello che ci dice l'uno detto San Martino l'altro con voce lombarda il re segone perché detto re segone dai molti suoi cucuzoli infila è fatto in maniera molto frastagliata come cima tante piccole cime che in vero lo fanno somigliare a una sega tanti denti tal che non è chi al primo vederlo purché sia di fronte come per esempio sulle mura di Milano che guardano a settentrione verso nord non lo discerna tosto ha una forma particolare per cui lo si riconosce subito il re segone ha un tal contrassegno a questa forma in quella lunga e vasta giogaia ci sono tanti monti ma guardando a nord dalle mura di Milano il re segone lo si riconosce perché ha questa caratteristica inconfondibile tante piccole cime come se fosse roidenti di una sega e poi ci descrive ancora il paesaggio per un buon pezzo la costa sale con un pendio lento e continuo la costa questi monti che scendono verso il lago quindi la costa del lago che sale verso i monti un pendio lento e continuo poi si rompe in poggi poggi piccole alture no e in valloncelli piccole valli inerte più ripide e in espianate pianure secondo l'ossatura dei monti che seguono proprio l'architettura dei monti l'orografia diciamo dei monti e il lavoro dell'acqua perché le acque hanno scavato l'orografia di questi monti il lembo estremo tagliato dalle foci dai torrenti è quasi tutto ghiaia e ciottoloni la parte più bassa no la ghiaia e ciottoloni formata dai detriti insomma che sono portati giù dai torrenti il resto invece sono campi e vigne sparse di terra luoghi dove ci sono dei campi diciamo così di ville di casali sono abitate da ville casali case i contadini in qualche parte boschi che si prolungano sulla montagna man mano che si sale si trovano i boschi e qui si mostra il luogo l'ecco la città che si trova qui in questa così al punto centrale insomma di questa descrizione dei luoghi che ha fatto la principale di queste terre che dà il nome al territorio giace poco distante dal ponte che congiunge le due rive i lati opposti del lago anzi viene in parte a trovarsi nel lago stesso cioè quando il lago diciamo si gonfia aumenta le sue acque e l'ecco rimane quasi incastrata dentro le acque insomma quando questo si ingrossa e l'ecco già a quei tempi era un gran borgo destinato a diventare città che si incammina a diventare città adesso il primo riferimento storico ai tempi in cui accaddero i fatti che prendiamo a raccontare quel borgo già considerabile era già abbastanza grande era anche un castello che aveva perciò l'onore di alloggiare un comandante e il vantaggio primo accenno all'ironia no? di Manzoni è un vantaggio di possedere una stabile guarnigione vantaggio è che vantaggio per i cittadini altro che vantaggio è il vantaggio di possedere una stabile guarnigione di soldati spagnoli che insegnavano la modestia alle fanciulle quando le trovavano se le violentavano e alle donne del paese non solo le fanciulle ma anche alle mogli accarezzavano di tempo in tempo le spalle a qualche marito quando questo marito insomma magari si ribellava a queste attenzioni che i soldati avevano per le loro compagne a qualche padre no? padre di quelle fanciulle e sul finire dell'estate non mancava mai di spandersi nelle vigne per diradare l'uve e alleggerire ai contadini le fatiche delle vendemmia si prendevano il racconto tranquillamente alleggerendo le fatiche delle vendemmia ai contadini qui con molta leggerezza molta delicatezza comincia già a darsi un'idea dei sopprusi e delle violenze che erano fatte dal potere insomma chi reggeva la guarigione spagnola dai dominatori via loro poi ritorna al paesaggio dall'una all'altra di quelle terre dall'una all'altra riva da un poggio all'altro correvano e corrono tuttavia strade e stradette e qui ancora ci mostra insomma come il paesaggio cambia man mano che si percorra una di queste strade come cambiano i punti di vista man mano che si sale si scende in questa stradetta come quella che prima sembrava una cima poi non è in realtà una cima quando ci si trova lì ma ci sono tante altre cime vicine come come quando c'è il tramonto la luce del tramonto si riflette sui monti che stanno dall'altra parte e li illumina con quella luce particolare no che da quel colore rosso alle rocce che che vengono colpite dai raggi del sole al tramonto insomma tutta una serie di aspetti che ci danno un'idea della bellezza anche di questo paesaggio e alla fine ecco che si concentra sulla figura per arrivare alla figura di Don Abbondio ai luoghi dove Don Abbondio ha la sua residenza e al paese in cui poi i primi fatti le prime cose avvengono e il primo fatto è l'incontro qui si stringe sempre di più il punto visuale dalle stradette dai luoghi così a Don Abbondio Don Abbondio prima preso un attimo dall'alto poi di schiena insomma lo vediamo col verviario che tiene dietro e lo guardiamo guardare avanti i bravi le impressioni quello che Don Abbondio intanto pensa prima di parlare e come si presentano al suo sguardo e soprattutto alla sua sensibilità insomma come lui li vede li riconosce in qualche modo è l'impressione che gli fanno nel momento in cui li vede e poi cerchiamo di entrare nella sua incertezza quando li vede che fare che fare ma il che fare di Don Abbondio è legato alla percezione a cosa fare perché cerca di fare un rapido excursus sulle sue possibilità li affronta subito come un pericolo ma se fugge questo pericolo rischia di tirarselo dietro come succede quando si scappa davanti a un cane che ti fa paura che ti corre dietro o se affrontarli se affrontarli nonostante il pericolo che si si guarda poi intorno arriva qualcuno non arriva qualcuno c'è la possibilità di chiedere aiuto no e allora il pericolo si affronta e a questo punto è necessario cercare di capire abbiamo visto no le grida questo è quello che Don Abbondio sa di questi bravi in qualche modo no che non c'è nessun potere che lo può proteggere e lui invece sappiamo ci dirà Manzoni che si è fatto prete proprio perché non voleva grane nella sua vita e trova che invece i bravi i bravi sono lì e sono una possibile grana insomma come quando ti arriva il messo comunale in casa e e ti porta una contravvenzione insomma ti porta qualcosa e tu pensi prima ancora che ti dia la lettera ma cosa avrò fatto perché proprio da me arriverà una multa arriverà una minazza arriverà cosa mi porterà cosa ho fatto e allora l'attesa è quella di dire cerchiamo di capire al più presto qual è l'oggetto di questo di questo incontro di questo arrivo di questo messo comunale in casi moderni oppure di questo di questi bravi che che notizia vogliono darmi cosa cosa vogliono dirmi e cosa avrò fatto per meritare quello che mi sta arrivando addosso e che non ho fatto niente anzi ho sempre cercato di evitarlo no ho sempre cercato di fare il bravo cittadino perché lo scopo di Don Abbondio poi come ci dirà nel resto del capitolo era quello di vivere una vita tranquilla proprio per questo si era fatto prete perché era l'unica garanzia che aveva in quei tempi lui povera persona innocua mite che aveva un solo scopo nella vita vivere tranquillo ecco era la possibilità che gli dava quella di farsi prete di vivere tranquillo ma nonostante questo vedremo che anche lui non potrà vivere del tutto tranquillo perché perché la logica del potere no spesso non è di andare direttamente dalla dall'obiettivo della propria oppressione se io ce l'ho con quello non vado direttamente da quello perché sarebbe espormi insomma se io godo del potere ma cerco un altro strumento intermediario lo minaccio e faccio in modo che quello con cui ce l'ho di cui voglio limitare la libertà trovi poi un limite nella burocrazia insomma no e ovviamente minaccio la persona intermediario che individuo in questo caso don Abbondio di non dire niente no di essere soltanto di rappresentare un limite ma di essere assolutamente muto sul mandante su chi gli impone di creare questo limite è un meccanismo no di agire sempre per una terza persona no di dire sempre per via immediata Don Abbondio sarà l'oggetto di questa situazione insomma verrà visto dal signor Otto dall'arrogante signor Otto dell'epoca ma che era già famoso perché per essere capace di compiere sopprusi e quindi Don Abbondio quando sentirà questo nome dai bravi avrà paura basterà il suo nome per scatenare dentro di lui tutta una serie di reazioni d'angoscia quando sentirà il suo nome si sentirà individuato per essere lui la fonte di questa repressione quindi il potere agisce sempre spesso quando vuole essere repressivo per interposta persona si espone raramente in maniera diretta perché altrimenti potrebbe essere visto come come dire come l'antagonista e quindi essere combattuto faccia a faccia ovviamente sempre nei limiti della forza relativa di entrambe le controparti ma agendo per interposta persona questa volta attraverso Don Abbondio è più difficile che il perseguitato riconosca il persecutore e Don Abbondio si trova nonostante questo a vivere questo ruolo e questa minaccia questa minaccia per cui deve stare zitto non deve rilevare non deve rivelare il nome del mandante del mandante di questa di questo compito quello di non fare il matrimonio che lui aveva in programma di fare insomma di Renzo e Lucia sarà per lui una fonte di di paura di preoccupazione di angoscia perché come fare a rimandare a ritirare una parola data e lui conosce i suoi polvi insomma sa che Renzo è un ragazzo impulsivo eccetera eccetera ed è costretto e qui si compie un altro dramma insomma tra quella che dovrebbe essere il suo dovere quello di come dire di dare atto alla promessa fatta e quello invece di rimangiarsi la parola data e qua allora il conflitto che si svolge all'interno del suo carattere e Manzoni a questo punto deve dirci e quindi ci dovrà descrivere qual è il carattere e come e perché Don Abbondio consapevole della realtà dei tempi ha deciso di farsi prete la logica per cui si è fatto prete insomma tanti modi tanti possono essere motivi per cui uno si fa prete ma Don Abbondio era consapevole di non avere un carattere forte di essere un debole ed essendo un debole vivendo in quei tempi l'unica modo per poter fare una vita tranquilla l'aveva individuato nel fatto di farsi prete ma come vedremo non è bastato il capitolo prosegue con la descrizione di del carattere di Don Abbondio e delle motivazioni che lo hanno portato a questo il nostro Don Abbondio non nobile non ricco coraggioso ancora meno sarà dunque accorto prima quasi di toccare gli anni della discrezione quasi prima ancora di di essere sufficientemente consapevole di quello che faceva ecco un breve inciso teniamo conto che anche la lingua che sceglie Manzoni per per fare questo per scrivere questo romanzo non è casuale insomma ha fatto una lunga ricerca sulla lingua sul linguaggio migliore insomma con cui costruire questo romanzo e l'ha trovato un po' nella lingua toscana insomma per cui sentiamo nel ritmo di questo linguaggio sentiamo l'accento toscano insomma in qualche modo e se ne accorgiamo quando leggiamo prima quasi di toccare gli anni della descrizione di essere in quella società come un vaso di terracotta questa immagine è molto famosa il vaso di terracotta in mezzo a molti vasi di ferro la realtà per lui era questa c'erano tanti vasi di ferro e lui era un vaso di terracotta fragile pronto a rompersi ad ogni cozzo per cui bisognava evitare i cozzi aveva quindi assai di buon grado obbedito ai parenti che lo volevano prete era un modo a quell'epoca di costruire il proprio futuro insomma un futuro abbastanza solido perché insomma i preti sopravvivevano comunque insomma avevano le decime avevano le varie popolazioni da parte dei contadini insomma di questa popolazione che aveva una grande religiosità per dire la verità non aveva fatto pensato agli obblighi e ai nobili fini del ministero al quale si dedicava non l'aveva fatto per vocazione per fare del bene agli altri potremmo dire no e quindi agli obblighi che in qualche modo costituivano la missione di chi si faceva prete qual era il suo obiettivo? procazzarsi di che vivere con qualche agio mettersi in una classe riverita e forte erano sembrate due ragioni più che sufficienti per una tale scelta a lui bastava questo no lasciatemi tranquillo ma ci dice Manzoni una classe qualunque non protegge un individuo non lo assicura che fino a un certo segno fino a un certo punto ti rende sicuro non puoi trovare la sicurezza soltanto nel fatto di appartenere a quella classe nessuno lo dispensa dal farsi il suo sistema particolare insomma deve lui trovarsi il modo per aumentare la quantità di sicurezza che gli serve per vivere in maniera decente e quindi Don Abbondio era continuamente assorbito nel pensare la propria quiete cioè nel trovare gli strumenti per sentirsi sicuro non si curava di quei vantaggi per ottenere i quali facesse bisogno ad adoperarsi molto o a rischiarsi un poco cosa vuol dire? vuol dire che non cercava di fare di più per ottenere se questo di più era un qualcosa che lo esponeva a qualche pericolo per ottenere maggiori vantaggi gli bastava quel poco che aveva non era disposto a correre nessun rischio anche per sentirsi più sicuro per avere un po' di più no bastava quel poco che aveva la cosa fondamentale per lui era la tranquillità era la percezione sua della sicurezza che era una mediazione mi basta questo ho trovato questo piccolo spazio non toccatemi in questo spazio non voglio di più il suo sistema allora in cosa consisteva? nello scansare tutti i contrasti e nel cedere a quelli che non poteva scansare evitare tutte le situazioni di pericolo di contrasto e se alla fine di fronte a un contrasto mi dovevo per forza trovare non lo potevo evitare a quel punto mi arrendevo cedere insomma dire di sì adattarsi quindi neutralità disarmata in tutte le guerre che scoppiavano attorno a lui quando succedeva qualcosa intorno a lui qualche contrasto lui era neutro non prendeva mai parte per nessuno e questi contrasti erano allora dice Manzoni molto frequenti tra il clero e le potestà laiche tra il militare e il civile tra i nobili e i nobili fino alle questioni tra due contadini gli capitava spesso di assistere a delle eliti diciamo così ma lui di fronte a queste eliti disarmato neutrale sempre non prendeva parte per nessuno guardava e basta anzi se poteva lui magari non guardava neanche insomma proprio neutralità disarmata mai prendere parte per nessuno perché la cosa principale era la tranquillità però poteva capitare che assolutamente dovesse prendere parte tra i due contendenti cioè non potesse scappare dal prendere posizione e allora cosa faceva? stava col più forte sempre però in maniera prudente in retroguardia e procurando di far vedere che l'altro non gli era volontariamente nemico cioè non era nemico dell'altro cioè pareva che gli dicesse ma perché non hai saputo essere tu il più forte che io sarei stato con te no? inoltre cosa faceva Don Aboglio? stava il più possibile alla larga dai prepotenti facendo finta di non vedere le loro soverchierie e i loro capricci e poi dimostrandosi sottomesso quando questa soverchieria non era evitabile e quindi dimostrando la sua dedizione la sua obbedienza inchinandosi di fronte al potente no? e con dimostrazioni il manzoni dice di rispetto gioviale facendo un sorriso quando incontrava i potenti per strada gli si scapellava davanti gli faceva tutti gli inchini possibili e questi in qualche modo sorridevano nel vedere questa sua questa sua abnegazione in questo modo però era riuscito ad arrivare ai 60 anni in maniera abbastanza tranquilla finché adesso non incontrerà questi due bravi che che in realtà per lui sono una grandissima minaccia e lo mettono in crisi certo che facendo questo non abbondio accumulava aggressività tu sei sottomesso ma la tua sottomissione a un certo punto a furia di sottomissioni e di sottomissioni e di inchini e di scappellamenti non è che dentro di te non abbia degli effetti no ti accumula un certo grado di aggressività perché le cose le vedi anche se ti dimostri servile e allora cosa succede che questa aggressività che accumuli la deve pur scaricare su qualcuno su chi poi la riversi ovviamente su quelli che senti più deboli di te e incapace poi di costituire per te una minaccia e quindi anche don abbondio insomma questa aggressività era costretto poi a riversarla su degli altri come lo dice Manzoni non è però che non avesse anche lui il suo po' di fiele in corpo e quel continuo esercitare la pazienza quel dar così spesso ragione agli altri quei tanti bocconi amari indottiti in silenzio glielo avevano esacerbato a segno che se non avesse di tanto in tanto potuto dargli un po' di sfogo la salute ne avrebbe certamente sofferto ma siccome verano poi finalmente al mondo vicino a lui persone che egli conosceva ben bene per incapace di far del male così poteva con quelle sfogare qualche volta il malumore lungamente represso e cavarsi anche lui la voglia di essere un po' fantastico e di gridare a torto anche lui poteva fare le sue sfuriate in maniera fantasiosa anche se aveva torto era poi un rigido censore grande così grande intuizione psicologica no? era poi un grande censore degli uomini che non si regolavano come lui proiezione no? quando però la censura ovviamente e qua restringe il campo quando però la censura potesse esercitarsi senza alcuno anche lontano pericolo era un censore sì ma quando questo non gli costava nulla essere un censore il battuto era almeno almeno imprudente colpa tua vedi insomma l'ammazzato era sempre stato un uomo torbido a chi messoci a sostenerle le sue ragioni contro un potente rimaneva col capo rotto non abbondio sapeva trovare sempre qualche torto cosa non difficile perché la ragione e il torto non si divido mai con un taglio così netto che ogni parte abbia soltanto dell'una o dell'altro altra bella intuizione no di manzoni il torto e la ragione non sono mai due cose assolutamente nette che si possono tagliare col coltello c'è sempre un po' di torto e un po' di ragione in ogni conflitto e quindi non faceva fatica ad un abbondio a trovare il torto dove lo voleva trovare soprattutto poi declamava contro quei suoi confratelli che a loro rischio prendevano le parti di un debole oppresso contro un soverchiatore potente questo chiamava un comprarsi gli impicci a contanti insomma chi prendeva le parti di uno più debole si prendeva lui le grane addosso ed era colpa sua insomma era comprasse le grane a contanti un raddrizzare le gambe ai cani bella immagine raddrizzare le gambe ai cani diceva anche se veramente che era un mischiarsi nelle cose profane a danno della dignità del sacro ministero insomma i preti come lui non avrebbero dovuto prendere la parte dei più deboli perché se no si sarebbero prese le grane volontariamente era colpa loro e questo andava anche contro la dignità del sacro ministero che era quello di rimanere sempre neutrale secondo Don Abbondio secondo la filosofia di Don Abbondio e contro questi predicava sempre però a quattro occhi ma facendosi sentire lui era forte quando non si esponeva o in un piccolissimo crocchio con tanto più di vehemenza quanto più essi erano conosciuti per alieni dal risentirsi in cosa che li toccasse personalmente tanto più avvertiva la controparte debole tanto più lui poteva andare su di tono e scagliarvi contro se invece la controparte era forte allora scappellamenti Don Abbondio e aveva poi la sua sentenza prediletta con la quale sigillava sempre i discorsi su queste materie che ha un galantuomo che va a dire se e stia nei suoi panni non accadono mai brutti incontri però abbiamo già visto che questa massima in questo momento non è stata sufficiente a salvarlo dal brutto incontro con i bravi il quale adesso dovrà prendersi la responsabilità di trovare una condotta una modalità di azione e quindi Manzoni ci dice persino i miei 25 lettori lui non pensava che il suo romanzo potesse avere un così grande successo no che impressione dovesse fare sull'animo del poveretto quello che si è raccontato incontro con i bravi lo spavento di quei visacci e di quelle parole e di quelle parolacce perché avevano anche bestemmiato no le avevano minacciato ti tagliamo la testa se non ubbidisci la minaccia di un signore noto per non minacciare in vano Don Rodrigo un sistema di quieto vivere la minaccia verso questo sistema di quieto vivere che era costato tanti anni di studio di applicazione di pazienza sconcertato che è stato messo in discussione in un punto e un passo dal quale non si poteva vedere come uscirne non riusciva a trovare una via di soluzione tutti questi pensieri ronzavano tumultuosamente nel capo basso di Don Abbondio Abbondio camminava a testa bassa e meditava continuamente su quello che gli era successo e sulla nuova situazione in cui si era venuto a trovare ed era completamente scombinato allora cosa fare se Renzo si potesse mandare in pace con un bel no e via ma sapeva chi era Renzo ma vorrà delle ragioni e cosa ho da rispondergli per amor del cielo e e e anche costui ha una testa un agnello che nessuno lo tocca ma se uno vuole contraddirgli la paura anche di Renzo nel momento in cui avesse voluto rimandargli il matrimonio e quindi provocarlo in qualche modo e poi e poi perduto dietro a quella Lucia innamorato come ragazzazzi che per non saper che fare si innamorano costruisce critica delle ragioni in maniera acritica no cioè è soltanto il suo proiettare la sua la sua rabbia no per cui le ragioni degli altri vengono messe in discussione anche quando sono legittime e buone ragazzazzi che per non saper cosa fare si innamorano vogliono meritarsi e non pensano ad altro non si fanno carico dei travagli in che mettono un povero galantuomo come se lui da quello che abbiamo visto prima della sua personalità si facesse carico dei travagli in cui vengono messi gli altri lui ha fatto tutta la sua vita per evitare per evitare di prendere parte ai travagli in cui si trovano le persone che dovrebbe invece amministrare che dovrebbe invece guidare che dovrebbe invece consolare oh povero me ma lui pensa solo evidentemente a se stesso alla sua tranquillità no l'incapacità di prendersi carico di prendersi cura degli altri cosa che invece lo contrappone nettamente a vedremo no all'altro fra Cristoforo fra Cristoforo invece è quello che dà la vita per gli altri lui invece vuole solo salvare se stesso vuole solo guarda solo a se stesso alla propria tranquillità oh povero me vedete se quelle due figuracce dovevano proprio piantarsi sulla mia strada e prenderla con me e qui decisamente altera la verità no come attribuisce agli altri una responsabilità che non avevano no come se loro si volessero sposare per prendersela con don abbondio insomma no è il pensiero che a un quarto punto devia si trova delle ragioni assolutamente artificiose artificiali no ma spesso accade anche a noi anche adesso cioè la bellezza di la bravura insomma la bravura di Manzoni è proprio questa è di farci sentire di dare ai suoi personaggi di farli pensare di farli agire come delle motivazioni che sono anche quelle che in qualche modo ritroviamo adesso insomma la psicologia dei suoi personaggi è rimasta bene o male tale quale in profondità come 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 è la nostra psicologia ai tempi di adesso che c'entro io sono io che voglio maritarmi questa è la obiezione di di don abbondio no ridicola perché non sono andati piuttosto a parlare oh vedete un poco un gran destino è il mio che le cose a proposito vi vengano sempre in mente un momento dopo l'occasione avrebbe voluto mandare i bravi a parlare direttamente con Renzo no ma questa non era la logica non è la logica del potere no e poi si lamenta perché in realtà insomma questa obiezione non l'ha fatta a momento giusto non l'ha fatta quando era insieme con i bravi era troppo impaurito quando ha avuto l'incontro con i bravi dopo si ripensa e cerca di trovare delle ragioni un po' artificiose no se avessi pensato di suggerir loro che andassero a portarla loro imbasciata voleva dire a Renzo ma a questo punto si accorse che il pentirsi di non essere stato consigliere cooperatore dell'iniquità era cosa troppo iniqua anche per lui insomma no che era prete e rivolse tutta la stizia dei suoi pensieri contro quell'altro che veniva così a togliergli la sua pace chi era l'altro Don Rodrigo e quindi comincia a prendersela dentro di sé ma solo dentro di sé con il potere di Don Rodrigo con l'arroganza del signor Otto non conosceva Don Rodrigo che di vista e di fama né aveva mai avuto a che fare con lui altro che di toccare il petto col mento quindi di scapellarsi di inchinarsi di riverirlo e la terra con la punta del cappello quelle poche volte che l'aveva incontrato per strada gli era occorso di difendere in più di un'occasione la reputazione di quel signore contro coloro che a bassa voce sospirando e alzando gli occhi al cielo maledicevano qualche suo fatto che aveva sempre difeso perché era opportunismo ovviamente no aveva detto cento volte che era un rispettabile cavaliere ma in quel momento quando è lui che è toccato poi nel vivo gli diede in por suo tutti quei titoli che non aveva mai udito applicargli da altri senza interrompere in fretta con un oivò così pensando in maniera tumultuosa arriva a casa giunto tra il tumulto di questi pensieri alla porta di casa che era in fondo al paesello mise in fretta nella toppa la chiave che già teneva in mano aprì entrò chiuse diligentemente e ansioso di trovarsi in una compagnia affidata chiamò subito perpetua perpetua avviandosi pure verso il salotto dove questa doveva essere certamente ad apparecchiare la tavola per la cena ha bisogno di una persona insomma di una persona affidata con cui in qualche modo confrontarsi insomma con cui sfogare la propria rabbia ma la situazione per lui era ambigua perché non poteva dire da cosa era provocata questa rabbia non poteva nominare Don Rodrigo perché Perpetua avrebbe potuto in qualche modo spettacolare e quindi poteva essere pericoloso a questo punto entra in scena il secondo personaggio anzi il terzo Don Abbondio i bravi adesso entra in scena Perpetua la Perpetua la serva di Don Abbondio serva affezionata e fedele che sapeva ubbidire e comandare una personalità abbastanza forte quella di Perpetua insomma ubbidiva ma nello stesso tempo era una che si intrometteva nelle faccende non era una che secondo l'occasione tollerare a tempo il blontolio e le fantasticaggini del padrone e fagli a tempo tollerare le proprie che divenivano di giorno in giorno più frequenti da che aveva passata l'età dei 40 rimanendo celibe per aver rifiutati tutti i partiti che le si erano offerti come diceva lei o per non aver mai trovato un cane che la volesse come diceva le sue amiche insomma questo era il punto debole era rimasta Zitella secondo lei perché aveva rifiutato sempre tutti i partiti secondo gli altri perché nessuno la voleva insomma sentirsi non voluto da nessuno non è una bella cosa e Perpetua risponde vengo mettendo sul tavolino al luogo solito il fiaschetto del vino prediletto di Don Abbondio e si mosse lentamente ma non aveva ancora toccato la soglia del salotto che gli entrò con un passo così legato con uno sguardo così adombrato con un viso così stravolto che non ci sarebbero nemmeno bisogno degli occhi esperti di Perpetua per riscoprire a prima vista che gli era accaduto qualche cosa di straordinario davvero ecco insomma Perpetua si accorse subito che qualcosa di straordinario è accaduto al suo Don Abbondio al suo padrone visto che lei era la serva chiamiamolo il suo padrone al suo Don Abbondio e a questo punto la curiosità no? la curiosità di Perpetua misericordia ma cos'ha signor padrone? niente niente rispose Don Abbondio lasciandosi andare tutto ansimante sul seggiolone spossato dalla fatica di questo evento improvviso che lo aveva sconvolto che lo aveva spossato fisicamente insomma anche non solo mentalmente lui era era stravolto insomma e quindi si lascia cadere pesantemente sul seggiolone tutto ansante e come niente gli dice lei la vuol dare ad intendere a me così brutto com'è qualche gran caso è avvenuto qualcosa Don Abbondio ti è accaduto e cosa vuoi io ti conosco troppo bene perché me la fai a me oh per amor del cielo Don Abbondio è spaventatissimo quando dico niente o è niente o è cosa che non posso dire piccola frase che si lascia sfuggire Don Abbondio nella sua nella sua ansia nella sua inquietudine ma perpetua troppo furba per non raccoglierla che non può dire neppure a me mette in gioco la sua fedeltà come tiene un segreto anche a me che sono no che faccio tutto per lei che sono la serva più fedele del mondo che non mi lascerei sfuggire niente ma in realtà è la curiosità che la muove no chi si prenderà cura della sua salute chi le darà un parere perché in realtà Don Abbondio ha bisogno in questa situazione di un parere deve confidarsi con qualcuno è troppo angosciato per tenere tutto dentro di sé o in me tacete e non apparecchiate altro datemi un bicchiere del mio vino con solo bere un attimo gli è passata la fame ma un desiderio di bere un po' insomma che lo aiuti un po' a stordirsi e perpetua ancora all'assalto e lei mi vorrà sostenere che non ha niente disse perpetua impiendo il bicchiere e tenendolo poi in mano come se non volesse darlo che in premio della confidenza che si faceva tanto aspettare date qui date qui disse Don Abbondio prendendo il bicchiere con la mano non ben ferma e votandolo in fretta come se fosse una medicina abbastanza di vero tutto ad un fiato no? come come Manzoni rende questa questa paura questo nuovo stato d'animo di Don Abbondio così angosciato così tormentato da questo fatto che tutta la vita aveva cercato di evitare e che invece gli salta addosso così di improvviso senza che avesse fatto niente per prenderselo cosa che criticava gli altri no? gli altri spesso se li andavano a cercare i guai mentre lui aveva sempre fatto tutto per evitare e gli capita lo stesso vuol dunque Perpetua no? ritorna all'assalto furba e anche aggressiva a modo suo no? vuol dunque che io sia costretta a domandare qua e là cosa sia accaduto al mio padrone disse Perpetua ritta innanzi a lui con le mani arrovesciate sui fianchi segno di potere no? di dominio e le gomita appuntate davanti guardandolo fisso quasi volesse succhiargli dagli occhi il segreto capacità di manzoni di di cogliere in questo atteggiamento di Perpetua un atteggiamento quasi di di dominio no? di sfida e quindi se non me lo dici guarda che io vado a chiederlo agli altri eh lo saprò e a questo punto ti metterò anche di più nei pastizzi quindi ti conviene parlare per amor del cielo non fate pettegolezzi non fate schiamazzi ne va e guardo la buona eh devo dirlo è troppo ne va la vita la vita la vita beh sa bene che ogni volta che mi ha detto qualche cosa sinceramente la blefa un po' Perpetua in confidenza io non ho mai è brava come quando non abbondano ha già capito è un terreno in cui non si lascia fregare Perpetua si avvide di aver toccato un tasto falso onde cambiando subito tono il mio padrone disse con voce commossa è da commuovere fa finta di stare completamente dalla sua parte io le sono sempre stata affezionata e se ora voglio sapere è per premura per aiutarla insomma no perché vorrei poterla soccorrere darle un buon parere sollevarle l'animo insomma voglio condividere con lei il suo dispiacere in modo che lei si senta più sollevato magari darle un consiglio fatto sta che Don Abbondio aveva forse tanta voglia di scaricarsi del suo doloroso segreto quanto ne avesse Perpetua di conoscerlo siamo tutti e due in questo desiderio di arrivare a condividere questo segreto onde dopo aver respinti sempre più debolmente i nuovi più incalzanti assalti di lei dopo averle fatto più di una volta giurare che non fiaterebbe finalmente con molte sospensioni con molti ohimè e raccontò il miserabile caso arriva finalmente a dire quando si venne al nome terribile del mandante bisognò che Perpetua proferisse un nuovo e più solenne giuramento e Don Abbondio pronunziato quel nome quanta fatica gli deve essere costato pronunciare quel nome si rovesciò sulla spalliera della sedia era spossato sfinito con un gran sospiro alzando le mani in atto insieme di comando e di supplica e dicendo per amor del cielo delle sue delle sue esclamò il nome del nome del soverchiatore era aumentare il pericolo no era stato minacciato no siamo qui soli che nessuno ci sente come farà povero signor padrone mi dice Perpetua oh vedete disse Don Abbondio con voce stitosa vedete che bei pareri mi sa dar Costei mi chiede come farà come se questo fosse un parere no ma è una domanda viene a domandarmi come farò come farò quasi fosse lei nell'impiccio e toccasse a me di levarmela ma io avrei bene il mio parere da darle ma poi ma poi sentiamo Don Abbondio è curioso qui del parere di Perpetua il mio parere sarebbe che siccome tutti dicono che il nostro arcibescovo è un santuomo e qua si riferisce a Federico Borromeo è un uomo di polso che non ha paura di nessuno e quando può far stare a dovere uno di questi prepotenti per sostenere un curato cigongola io direi e dico che lei gli scrivesse una bella lettera per informarlo come qualmente insomma qui è abbastanza lucida se Don Abbondio non fosse così codardo diciamo noi no quello di rivolgersi a a un potere più grande e denunciare il fatto ma qua bisognerebbe credere alla giustizia insomma alla capacità del potere di proteggerti anche no ma Don Abbondio ha una visione del tutto diversa Don Abbondio non può accettare questo parere di perpetua perché è la sua ragione poi la dice subito no e volete tacere volete tacere son parere cotesti da dare a un pover uomo quando mi fosse toccata una schioppettata sulla schiena io liberi l'arcivescovo me la toglierebbe è una cosa che che ancora si vive no pensiamo a una minaccia mafiosa no andare a denunciarla e poi quando ti sei preso la schioppettata che hanno fatto l'indagine eccetera eccetera che magari ti riconoscono la ragione te la tolgono la schioppettata cosa fare farti giustizia da solo subire o denunciare problema eh le schioppettate non si danno via come confetti dice perpetua e guai se questi cani dovessero mordere tutte le volte che abbaiano perpetua è più leggera insomma no sembra un abbaiare quasi innocuo di questo cane prepotente che è Don Rodrigo e io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti e farsi stimare gli portano rispetto e appunto perché lei non vuol mai dire la sua ragione siamo ridotti a segno che tutti vengono con sua licenza a vorrebbe dire a fare i fatti loro con noi insomma no si sente rimproverato Don Abbondio ma ma è troppo più forte di lui la sua paura il suo carattere e gli dice ma volete tacere io taccio subito ma è però certo che quando il mondo si accorge che uno sempre in ogni incontro è pronto a calarle vorrebbe dire a calarle brache altro rimprovero no che perpetua fa a Don Abbondio sei un piccolo vigliacco cali sempre le brache come vuoi pensare che gli altri possono aver rispetto no come dire pensare che tu puoi reagire se cali sempre le brache e quindi ti sopraffanno ancora di più basta volete tacere è tempo ora di dir coteste bagianate dice Don Abbondio il quale si si protege con tutte le armi che può basta ci penserà questa notte ma intanto non cominci a farsi del male da sé a rovinarsi la salute mangi un boccone e gli si perpetua brava donna pratica non mangi un boccone non ci pensi si penserà ma intanto mangi si calmi calmati ci penserò io rispose brontolando Don Abbondio sicuro ci penserò io io ho ciò da pensare tu non sai darmi un consiglio adeguato solo io potrò insomma tirarmi fuori se riesci e riesco da questo impiccio e si alzò continuando non voglio prendere niente non voglio mangiare niente ho altra voglia lo so anch'io che tocca pensarci a me sempre io devo tirarmi fuori da me non posso fidarmi del consiglio di nessuno neanche tuoi perpetua ma la doveva accadere per l'appunto a me proprio a me doveva capitare sta roba mandi giù almeno quest'altro gocciolo disse perpetua mescendo lei sa che questo le rimette sempre lo stomaco bevi almeno un altro po' sai che ti tira sempre un po' su consiglio pratico che si da ci vuol'altro ci vuol'altro ci vuol'altro mi sa donammondio angosciato così dicendo prese il lume e brontolando sempre una piccola vagatella a un galantuomo par mio e domani come andrà e altre simili lamentazioni si avviò per salire in camera giunto sulla soglia si voltò indietro verso perpetua mi era in mente l'angosciato silenzio mise il dito sulla bocca e disse con tono lento e solenne per amor del cielo e disparve e così finisce il primo capitolo